Buongiorno amici sportivi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi parliamo della Superlega, nella realtà che io avevo già accennato purtroppo a essere vera, oggi con la sentenza Bosman, simile alla sentenza Bosman, è stata ufficializzata, quindi non c'è nessuna, come dire, la Juve si è ritirata e se era ad oggi non avrebbe avuto nessun problema senza patteggiare del fatto che comunque avrebbe partecipato e parteciperà la Juventus 100% alla Superlega anche se si è ritirata, ma con questa sentenza qua tutte le società saranno incluse nella Superlega, perché lo facciamo velocemente, quando lo scorso anno vi avevo parlato della Superlega avevo detto che non si poteva non prendere in esame questo progetto perché comunque c'era una sentenza che sarebbe stata ufficializzata a breve, già a giugno se non sbaglio o a marzo di quest'anno e la rappresentante tedesco che adesso mi sfugge dell'associazione che ha il monopolio, che crea questa Superlega a livello di immagine, aveva parlato che nel caso in cui la Superlega venisse presentata nel 2024, cosa che verrà fatta, dal 2025 sarà ufficiale, le partite venivano viste gratuitamente e chiaramente è un po' come l'NBA, si vive dopo tra il primo e il secondo tempo di una stangata di pubblicità, si parla anche che ci sono delle pause di 5 minuti nel corso di tempo regolamentale con il modello NBA, però il modello NBA ha funzionato, funziona e chiunque lo guarda è un progetto che funziona e purtroppo funzionerà anche nel calcio, perché? Perché io ho visto anche l'FA Cup, non l'FA Cup, la Carlin Cup è seguita ma non tanto seguita in Inghilterra come l'FA Cup oppure in Francia, c'è tanti stadi vuoti nelle partite di Cup, anche quelle spagnole, anche in Italia, a parte i prezzi bassissimi ieri della partita dell'Inter, ma in realtà fino alla semifinale nessuno segue queste partite con tanto interesse, a meno che ci sia una partecipazione pubblica come è stata ieri, allora è diverso, anche perché comunque si incontravano la prima con la quarta, però in generale vedere tanti stadi vuoti non ha senso, la Superlega riempirà ai stadi perché farà prezzi molto più bassi, dove trova tutto questo finanziamento? E' quella la domanda che ci si pone, perché comunque le società non hanno più problemi di acquistare giocatori perché possono giocare nella Superlega e nella FIFA normale, sono due enti distinti, quindi faccio un esempio, Mappé potrebbe giocare per il Paris Saint-Germain come avverrà il Madrid nella Superlega, per assurdo, per esempio, ma soprattutto le squadre arabe entreranno nella Superlega e questo è ovvio, in entrare al Superlega ci sono i sponsor, cioè voglio dire i soldi vengono trovati, le banche finanzieranno e non ci saranno più, e possono spendere e spandere quanto vogliono perché come è nel modello NBA gli sponsor, i grandi sponsor sbilanceranno il tutto perché le partite saranno viste a livello gratuito e quindi ci sarà inizialmente, sicuramente dopo no, però voglio dire, magari non tutte, 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 però alla realtà dei fatti è un calcio che non mi rappresenta, cioè già questo mondiale per club non mi rappresenta, cioè già questa National League non mi rappresenta, già questa competizione, nuova conference non mi rappresenta, già Europa League faccio fatica a immagazzinarla perché ero rimasto alla UEFA, già la Champions League come è fatto ha fatto fatica a immagazzinarla ma l'abbiamo immagazzinata, ora ci saranno tutti questi cambiamenti, voi immaginate un campionato inglese dove le squadre hanno il campionato che gioca, adesso giocano tutti tutti i santi giorni, molto più del campionato italiano, lo fanno regolarmente ogni anno, in più hanno la Cup, la Carlin Cup che è praticamente tra le squadre professioniste di serie A e B, di Premier League e Championship e poi c'è la FA Cup in mezzo, c'è il turno che a gennaio verrà potenziato, sono al terzo o quarto turno, adesso inizieranno a entrare quasi tutte le bighe, a queste si aggiunge una Super Lega, a queste si aggiunge tutta una serie di partite che possono essere quelle della Nazionale con la National League inclusa, con magari non lo so, altre partite di Nazionale che in questo momento sappiamo, in più ci sono tutte le partite di Coppa allargate, molto allargate, quindi si arriva ad una Champions League che comunque sarà seguita, la Champions League non perderà mai il suo fascino, questo possono fare la Super Lega ma la Champions League non perderà mai il suo fascino e quindi tutto questo condensare porterà a solo una grande confusione, alla fine saremo dei spettatori col Popporn modello americano e purtroppo se in America ha funzionato funzionerà perché la Super Lega in America andrà da Dio, sarà proprio il perfetto e voi immaginate i cinesi, la popolazione cinese e la popolazione americana magari quella indiana e quella araba aversi insieme sono dieci volte di più di tutta la popolazione europea e tutti pagheranno, tutti guarderanno e i diritti cresceranno tantissimo, quindi la Super Lega è destinata a vincere, però non vincerà secondo me dal punto di vista del fascino della competizione perché se escluderemo dopo magari una specie di finale, tutte le altre partite sono sì belle ma cosa mi danno? Noi europei non devi toglierci i campionati, siamo abbastanza nazionalisti qui in Inghilterra, esultano quelle che l'hanno creata fin dall'inizio, Barcellona, Madrid, Liverpool, non mi ricordo se c'era anche il Bayer, soprattutto queste squadre spagnole che sono indebitate fino al collo e si sdebiteranno e avranno grossi introiti di sponsorizzazione e quindi alla fine secondo me nasce sempre per spalmare dei debiti che nessuno vuole pagare, in sostanza è questo. Detto questo faccio i complimenti al Bologna ieri che è una gran vittoria, rimango a voi, questo non è un video dove parlo di tattica, di analisi, qui è un video commento che comunque va fatto perché ne avevo già accennato tempo fa e purtroppo oggi è realtà come no, purtroppo dipende, non è purtroppo, ripeto non è un problema grosso, il fatto è che come vai a incastrarti con tutte queste realtà partendo dal presupposto che la Superlega non ha un campionato, da come è nata e come resterà, ci saranno una serie di partite come il MNBA e poi quando inizieranno tra virgolette gli ottavi o sedicesimi allora diventerà interessante, ma è tutta una serie di partite che sono affascinanti solo perché giocano le squadre dei club più importanti ma alla fine sono delle grandi amichevoli, parliamoci, che devono incastrarsi con la Champions League, con i campionati, con tutto quanto e io non credo che sia così facile, cioè un pubblico viene spallotato, chiaro che mettendo queste partite gratuite quello fa la differenza. Ciao a tutti!